Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i modellini della CMC azienda tedesca spettacolare ragazzi meravigliosa in scala 1 a 18 mi raccomando ragazzi se vorrete aiutarmi a sostenere questo mio nuovo progetto non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati per ogni mio nuovo video allora passiamo a noi ragazzi e grazie del vostro tempo questa come potete vedere è la Ferrari 250 testa rossa del 1957 Fountain Fender chassis numero 0714 a edizione limitata limit edition 5.000 pezzi se non sbaglio ma poi andremo a vedere tutto all'interno scusate ragazzi se ogni tanto vedrete questo movimento ma non sono riuscito a fissare bene il telefonino e vi chiedo scusa anticipatamente allora guardate andiamo innanzitutto a dare un'occhiata alla scatola qui abbiamo il logo per la licenza ufficiale del prodotto della Ferrari questo in questo caso è il numero lasciando perdere adesso il logo Ferrari ovviamente in questo caso il riferimento di questo modello è lo 081 andiamo a vederla su tutti i sei i lati qui si ripete quello che è scritto dall'altra parte ecco qua procediamo all'apertura che bellezza ragazzi che bellezza ragazzi allora guardate che spettacolo bellissima 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 numero 124 questo è un libricino diciamo una brochure ci dice che tiratura limitata ecco qua 5.000 pezzi 1.640 singole parti cos'altro dire ragazzi questi sono pezzi di un certo tipo costosi non cari ragazzi costosi cioè costoso è quello che vale paghi quello che vale caro è un'altra cosa ecco adesso abbiamo dato la spiegazione del professore della domenica anzi no oggi è giovedì comunque ragazzi io ho preferito fare collezioni tra virgolette perché chiaramente non ho potuto permettermi un'intera collezione magari però ho preferito avere pochi pezzi ma meravigliosi insomma piuttosto di avere 100 pezzi a 20 euro preferisco averne 7 8 a 200 euro 300 euro adesso vabbè non so gli ultimi prezzi quale siano ma sicuramente saranno saliti vi dico ragazzi che sono dei pezzi meravigliosi adesso andiamo a vedere anche ci danno come nell'altro modello che vi avevo fatto precedentemente vedere nell'altro video il testa rossa rosso qua c'è un diciamo delle istruzioni molto semplici per farci vedere come aprire il cofano anteriore e il cofano posteriore ok andiamo procediamo all'apertura andiamo a mettere questo qui in fondo scusate un attimo ecco qui oh la 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 cosa c'è qua sotto ragazzi e chi conosce questo modello sa già di cosa sto parlando chi non lo conosce è preparati a vedere a vedere l'eccellenza del modellismo ragazzi qui abbiamo un telino un tessuto il logo cmc esclusivi modelli esclusivi mettiamolo un momento qui guardate soltanto la cura come sono chiusi perfetti andiamo a vedere questa magnificenza ragazzi allora mettiamo via anche questo qui vedete abbiamo questa è la 294esima di 5.000 pezzi germania non leggo il resto ragazzi perché sono i tedeschi poi mi mi uccidono e qui abbiamo tutto quello che riguarda la spiegazione di questo modello bellissima continuiamo all'apertura se no ragazzi come faccio a farvela vedere oh mamma mia ragazzi ragazzi guardate guardate cosa non è facciamo vediamo se riesco a mettervela qua sopra senza che faccio danno se riesco a farvela vedere meglio eh sì eh anche se con lo sfondo bianco chiaramente i dettagli si vedono meglio allora un altro esperimento ragazzi guardate se vi possa aiutare vediamo un po allora comunque prima vi faccio vedere allora scusatemi guardate guardate che dettagli ragazzi guardate che dettagli cerco di andare piano più che posso ragazzi perché ho visto che nell'altro filmato ero troppo veloce guardate guardate che meraviglia chiaramente poi procederemo anche alle aperture ragazzi tranquilli ci mancherebbe altro i sedili i sedili sono rivestiti di una gomma che sembra pelle e poi ha una specie di codina di topo si chiama così da noi in Italia una codina di topo bianca in rilievo che è stata applicata successivamente guardate vediamo se si vede qualcosa così ragazzi piccolo esperimento eh vediamo non so se si vede qualcosa ci ho riprovato ragazzi come potete vedere ci ho riprovato di nuovo non mi arrendo perché mi dispiace che non riusciate a vedere il dettaglio anche sulle ruote per esempio c'è il timbro nei galletti chissà se riesco a farveli vedere non lo so ragazzi se poi con lo zoom riuscirete a vederli guardate la valvola in ottone no forse non è in ottone ma comunque in metallo delle ruote le ruote vengono fatte con un filo d'acciaio che passa attraverso i tiraraggi andiamo a vederla adesso sotto mamma mia ragazzi chiedo scusa perché l'altra volta vi ho indicato questo tappo qui nel modello precedente il testa rossa rosso del 58 ve l'ho indicato come il tappo del cambio ovviamente mi sono sbagliato l'ho corretto nei sottotitoli ragazzi è il differenziale ovvio il cambio è anteriore guardate ragazzi come ho detto già nell'altro questo è tutto in acciaio acciaio eh tubi di rame stesse facette ovviamente perché sono testa rossa come poi successivamente farò anche il video della testa rossa bianca eh ragazzi guardate che dettagli eh ci riprovo senti non vedo niente vabbè ragazzi allora mamma mia che bella che è andiamo a metterla vediamo se riesco a avvicinare un attimo eh ragazzi usatemi così la vedete forse meglio allora a questo punto all'interno arrivo ai ragazzi sto prendendo ero anche curioso di farvi vedere un po' il peso il peso di questo modello così curiosità guardate 648 grammi in libre eh eh spesa in libre guardate leggetelo voi che siete più bravi va io vedo uno due punti 6.9 eh scusatemi ragazzi cerco di aiutarvi ma di più non posso fare ovviamente mi sto riferendo adesso non agli italiani allora vediamo la bilancia semplicemente una curiosità in più ragazzi per farvi proprio capire quanto è pesante questo modello poi ci forniscono anche qui come anche nell'altro che vedremo poi nell'altro video nel prossimo video pinzette che ci aiutano ci possono aiutare nelle piccoli particolari e un calciavite che anche questo ci servirà ovviamente non per avvitare o svitare perché è di plastica ma per non rovinare la vernice quando andremo appunto la vernice del modello quando andremo appunto ad agire sul modello allora io direi adesso apriamo le portiere ragazzi che facciamo guardiamo il modello ma è fuori fuoco o sbaglio ok ragazzi iscrivetevi iscrivetevi se vi è piaciuto il video e iscrivetevi anche grazie datemi dei consigli ragazzi perché io ho bisogno di crescere e con voi cresco ancora meglio di sicuro chissà quanta gente è capace a fare i video mille volte meglio di me faccio quello che posso adesso ragazzi allora guardate peccato che non riesco a farvi vedere i fili come faccio a farvi vedere i fili in fondo che non ho una luce stavo pensando ragazzi scusate la voce è alta sto pensando guardate la strumentazione ma ma guardate ma quanto è bello questo modello ragazzi c'è il tappetino sotto qui purtroppo non riesco a come nell'altro a farvi vedere tutto l'impianto elettrico che c'è qua sotto con le resistenze qualcosa di meraviglioso bellissimo io ogni volta che lo guardo sono come un bambino ragazzi e non mi dispiace sono contento così andiamo aprire anche questa di qua guarda qua ci sono addirittura e questo è da guardare ragazzi Michele ci riprova vediamo se ce la faccio ce la faccio guardate riuscite a vedere ci sono praticamente c'è un allacciamento dei tubi di rame che vanno dall'anteriore al posteriore mamma mia ragazzi chiudiamo anche qui ah questo qui cos'è non capisco c'è questo ragazzi forse qualcuno me lo può spiegare cos'è sembra un po' già coscia per riposare la gamba quando il pilota la guida ma comunque andiamo avanti prima cosa apriamo il cofano posteriore ragazzi qui ci sono dei ganci non so come si chiamano comunque sono dei fermi con la molla con la molla ragazzi fantastico guardate che roba qui c'è l'apertura del carburante che è la prima apertura del carburante perché sotto poi come potete vedere c'è un altro tappo ce la facciamo aspettate ragazzi eccolo qua ce l'ho fatta forse ecco qua guardate ragazzi guardate cosa non è questo modello mamma mia che dettagli ragazzi che allora poi guardate qui avviciniamo ancora un po' scusate perché io voglio farvela vedere bene voglio farvela vedere bene ragazzi ok allora oh 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 questa la mettiamo dopo dai non lo perdiamo era la plastichina che teneva il tappo del carburante guardate qui c'è l'apertura a cinghia cintura come la vera guardate questo ancora va messo meglio ragazzi per farvi il video meglio lo sto facendo da in piedi rendetevi conto ho girato male questo va girato dall'altra parte vediamo eccolo qua voilà ce l'ho fatta ragazzi guardate guardate io non vi dico niente guardate vi dico soltanto come ho detto nell'altro perché sono gli stessi modelli cambia il colore chiaramente queste da corsa quell'altra stradale gli rivetti sul serbatoio in acciaio inossidabile sono messi uno a uno guardate la ruota la ruota di scorta qui abbiamo la levetta che tiene poi il cofano su in metallo anche questa guardate guardate mamma mia che roba ragazzi chiudiamo qui lo sfiato lo sfiato del rame tubo di rame qua della benzina nel troppo pieno con il gommino nero qui guardate la battuta del cofano mamma mia allora andiamo solo a chiudere un attimo questo così vi faccio vedere anche il cofano anteriore ragazzi e poi abbiamo finito scusatemi li faccio un po più lunghi questi video perché a me piace proprio far vedere tutto non mi piace vedere un modello chiuso a me ragazzi mi piace vedere il bello e proprio soprattutto all'interno sotto le parti chiuse guardate che verniciatura guardate che verniciatura che c'è allora andiamo a levare ad alzare anche questo ragazzi vi garantisco io non l'ho mai aperto l'ho aperto con voi adesso li ho comprati e li ho messi subito via allora stessa cosa andiamo a levare piano piano questo uno mi dovrei aiutare con le pinzette ragazzi ma vi garantisco che non riesco con queste non chiudono bene sono belle da vedersi ma insomma non chiudono bene quindi preferisco fare così ok devo superare il punto morto ecco qua no entrati in un altro foro ecco ce l'ho fatta ok questo viene via guardate anche qui guardate ragazzi che particolare ma mi sembra che sia più scuro il video mi sbaglio ragazzi boh non lo so se solo alzo di più ben più chiaro come mai non lo so ma speriamo che si veda bene lo stesso dai questo è il motore ragazzi come potete vedere guardate che dettagli guardate ragazzi mamma mia cosa vi posso dire ancora su questo modello guardate le immagini parlano da sole guardate eh scusate si muovono un po' perché cerco di avvicinarle lo sto tenendo con le mani aspettate ma facciamo così abbiate pazienza vediamo se faccio così se viene meglio faccio danno guardate eh beh meglio eh guardate qui bobina spinta erogeno tutti i fili le fascette in metallo per aggruppare i fili in maniera ordinata carburatori l'attacco delle dal radiatore ai tubi che raffreddano il motore dentro la testata guardate queste gomma e queste sono fascette in metallo ma la bobina qua sotto questa dovrebbe essere quella delle candele fiamme scritto sopra e poi abbiamo anche questo chissà se riesco a farvelo vedere come dico io vediamo ragazzi ma l'adesivo ferrari uffa non riesco ragazzi a farvelo vedere va bene dai questo qua ragazzi volevo farvi vedere questa targhetta qua in metallo ragazzi in metallo non adesivo metallo proprio in metallo come modellini della sgawa non so se avete presente quelli tagliati a laser su lamine in acciaio ragazzi io direi che guardate i rivetti qua aspettate che si metta a fuoco ecco qui guardate guardate che rollo che meraviglia ragazzi grazie io direi che il video può terminare qui aspettate che alzo un po qua così ragazzi faccio quello che posso non mi dite niente volevo prendere un'immagine più avvicinata perché mi piace proprio vediamo un po' ecco così voilà guardate ragazzi ecco che dire ragazzi sono sempre più contento ogni volta che li guardo questi modelli ne ho diversi e da recensire ragazzi da farvi vedere più che recensire ecco ve li faccio vedere perché non è che io sia un grande esperto anzi tutt'altro io sono un esteta mi piacciono le cose belle e fatte bene ecco insomma qui non bisogna essere degli esperti prendersi conto che siamo davanti veramente a delle opere d'arte a delle vere e proprie opere d'arte o anche diversi modelli dell'exoto che metterò nella playlist ragazzi vi ringrazio del vostro tempo nuovamente vi chiedo se siete diciamo rimasti contenti di come insomma faccio i video creo dei video ci metterò sicuramente molto più impegno in futuro ogni volta che farò un video cercherò di migliorarmi sperando di riuscirci e con le vostre iscrizioni riuscirò a far continuare a vivere il mio canale a farlo crescere sempre di più e così facendo potrò essere in grado di proporvi tante ma tante altre cose molto interessanti spero per voi quindi ragazzi vi saluto vi ringrazio nuovamente e vi auguro sia voi che a tutti i vostri cari più cari una serenissima giornata ciao ragazzi e grazie grazie di avermi guardato ciao